Una bella giornata oggi per Celle San Vito, una bella manifestazione, di cosa si tratta? Sì, per me è una bellissima manifestazione, una bellissima giornata, così anche per i miei con cittadini. Questo evento dell'inaugurazione della statua e di dedicare la statua a Callotagio, io l'ho sempre sognata. Finalmente, dopo 15 anni, si è avverato questo sogno. Qual è il significato di questa statua per i concittadini, per i paesani qui in Celle San Vito? È un significato di conoscenza di un re che ci ha creato più che altro, come esistenza di un paese e della nostra lingua. Per questo siamo grati a lui per questa nostra esistenza.